Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Ora andiamo ad analizzare la giornata del 2 gennaio dove appunto nevicherà soprattutto il nord ovest in pianura e andiamo ad analizzare un po' gli accogli previsti città per città. Ovviamente nominerò le città principali. Partendo dal nord ovest avremo l'incirca 20-25 cm a Torino, fino a 20 cm ad Asti, 20-25 cm ad Alessandria, 10-15 cm a Vercelli, 15-20 cm a Novara, 5-10 cm a Milano, 10-15 cm a Pavia. 5-10 cm a Bergamo, 20 cm a Varese, 20-25 cm a Bolsano, 30-40 cm ad Aosta, 10-15 cm a Trento e 10-15 cm a Belluno. Sulle pianure del nord-est purtroppo non nevicherà. Per ora è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento meteo. Vi ricordo di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati. Alla prossima!